Buongiorno, siamo con Enrico Comini, proprietario dell'Hotel Union di Dobbiaco. Buongiorno Enrico, ben trovato. Buongiorno Roberto, benvenuti a tutti i telespettatori di Corriere Turismo e grazie per essere qua con noi. Perfetto, allora, quest'anno è un'estate dove ci ritroviamo e dove finalmente siamo senza obblighi, mascherine e cose, restrizioni, no? Che tipo di estate è quest'anno? Finalmente è arrivata l'estate che conoscevamo, nel senso che ci sono tanti ospiti, il caldo delle città sta favorendo l'afflusso di turisti, devo dire che la stagione è molto molto buona. Ecco, parliamo di caldo perché è un caldo anomalo, qui siamo a 30 gradi, ma però la notte tutto sommato la temperatura scende sui 20 gradi, pertanto i turisti sicuramente approfittano della frescura serale per trovare quella tranquillità e serenità che nelle città non si trova. Cosa pensi? Hai visto delle differenze rispetto agli altri anni e i turisti arrivano proprio anche in funzione di questo? Sì, allora, i turisti sono tornati al turismo internazionale, cosa che ormai mancava da un paio di anni, siamo molto contenti di aver ripreso soprattutto i mercati del nord, quindi Finlandia, Svezia, Norvegia, Belgio e poi i tedeschi e gli svizzeri. Gli svizzeri stanno arrivando veramente a flotte. Ecco, per quanto riguarda l'hotel, l'hotel è un hotel particolare dove avete anche tante attività alternative, no? Tipo, siete un bike hotel se non erro. Siamo specializzati per le bici, il mountain bike e le bici da corsa, offriamo un servizio di consulenza interna, abbiamo cinque guide a nostra disposizione che vi sanno consigliare e accompagnare nei posti più belli delle nostre regioni e anche un po' quelli un po' più segreti. Perfetto, ci sono novità quest'anno per quanto riguarda l'hotel Union? Novità sono, abbiamo ancora incrementato la qualità della gastronomia, abbiamo ampliato la nostra scelta di vini e abbiamo aumentato l'igiene e la pulizia di tutti gli ambienti e gli spazi, le camere e gli spazi comuni. Benissimo, Enrico, vogliamo dare i dati per potervi contattare nel sito internet al numero di telefono? Certo, noi siamo a Dobbiaco, nella perla delle Dolomiti, il nostro sito è www.hotelunion.it e il numero di telefono è 0474 970 100. Tutto il nostro personale e i nostri collaboratori sapranno consigliarvi per la vostra vacanza. Perfetto, allora da Dobbiaco un grande saluto a tutti e una buona estate anche a Enrico. Grazie a tutti e vi aspettiamo qui nella bella Dobbiaco. Ciao!